Manuela Arcuri si è sposata con Giovanni di Gianfrancesco e nella prima e unica foto circolata sul web appare raggiante con un abito bellissimo di colore avorio, scollato col decoltè in bella vista. La coppia è convolata a nozze nel castello De Scalchi sul lago di Bracciano. A condividere lo scatto è stata Emanuele Puzzilli, il dentista dei VIP invitata alle nozze. Testimoni della 45 anni, il presidente del CONI Malagò e Alberto Tarallo. Manuela e Giovanni, imprenditore edile, fanno coppia dalla 2010 e nel 2014 sono diventati genitori di Mattia. Ora finalmente sono marito e moglie.